Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video, oggi torno a fare una mini recensione e vado a fare la recensione, una chiacchierata riguardante il secondo capitolo di Inside Out che è uscito ormai da più di una settimana anche da noi in Italia al cinema era già uscito da altre paese all'estero diverse settimane prima mi pare perché mi ricordo che sentivo notizie di incassi dall'estero riguardante proprio questo film io però sono andato a vederlo solo ieri sera, sabato sera e voglio farci un po' una chiacchierata allora, sicuramente è un film che avrò poi il piacere di comprare in un video quando uscirà fra un po' di mesi ma non credo prendere comunque al day one quindi vabbè, comunque prima o poi sarà un prodotto che vedete negli unboxing multipli però, quindi come voto gli darei un 7,5 o l'8 questo potrebbe essere un voto mio che gli darei però è anche un film che ho trovato decisamente debole decisamente debole per come tratta l'argomento che è il suo cardino ovvero l'adolescenza di... l'adolescenza insomma che per molti... cioè, non per molti... cioè, qua di solito molto spesso si tende a dire che l'adolescenza è il periodo più difficile di un ragazzo, di una ragazza e quindi l'argomento centrante di questo film è proprio questo l'adolescenza dove è tutto un casino e certe... certe... fondamenta magari si vanno a perdere le intenzioni del film sono sicuramente molto belle il problema è che come sono state realizzate come rende a livello finale perché il film è una... è ricco di veramente troppe cazzate troppa... troppa comedi cioè, non sembrava nemmeno un film della Pixar, sinceramente cioè, io ho sempre apprezzato molto la Pixar rispetto magari alla Disney perché io... di Disney... Disney ho... magari ho... nella mia vita ho guardato alcune pellicole specifiche perché mi attiravano però non sono mai stato un grande amante della Disney mentre invece la Pixar mi è sempre piaciuta molto perché aveva un suo modo, tutto suo che era una via di mezzo tra... tra puntare ai bambini che puntare al pubblico adulto e la Pixar mi è sempre piaciuta per la sua serietà e sinceramente in questo film... è troppo... è troppo una boiata dietro l'altro, secondo me ed è un problema, secondo me cioè, perché rende il film debole cioè, perché poteva essere molto più forte molto più... mi poteva rimanere molto più impresso senza... se non ci fosse stata tutta quella cazzate che ci sono state tutta quella commedia cioè, una roba incredibile che è per carità divertente però poi è debole cioè, per me quantomeno è debole quindi per me Inside Out ha questo grande problema che poteva essere magari un grande film ma si limita all'ottimo al solo ottimo perché non ha avuto abbastanza coraggio nel trattare questo argomento con la giustità con un minimo di cattiveria, insomma perché la commedia, le varie cazzate che succedono le cose che magari non sono neanche tanto plausibili rovinano un po' la serietà dell'argomento cioè, inevitabilmente tolgono spessore a quello che doveva essere il messaggio finale a quello che era lo scopo del film e quindi, boh per me è questo Inside Out è un ottimo film che sicuramente merita di essere visto al cinema perché tecnicamente è meraviglioso tra l'altro nel vederlo ho detto cazzo si vede che sono passati quasi dieci anni rispetto al primo capitolo cioè, questo secondo capitolo cioè, vabbè, chiaramente come ho un po' tutti i prodotti della Disney in realtà però sicuramente è sicuramente bellissima da vedere quindi, al cinema comunque vabbè, ormai ci siete già andati in realtà cioè, non credo serva non credo serva di dirvi andate al cinema cioè, probabilmente fra qualche ora sarà arrivato a 30 milioni di incasso questo film quindi, solo in Italia quindi, il mondo ci sta già andando non servo io a dirvelo però comunque sì nel caso, se proprio non ci siete ancora andati fatelo perché dal punto di vista visivo merita poi anche comunque divertente per carità cioè, è sempre un film della della Walt Disney Pixar insomma non è brutto, eh non è anche perché tra il 7 e mezzo e l'8 insomma non è un c'è anche un ottimo voto in realtà però io dalla Pixar mi aspetto altro per dire anche Elemental che tra l'altro sì, ci avevo fatto il video sì, all'epoca ci avevo fatto la mini recensione tra l'altro mi sembra di ricordare tra i due Elemental mi è rimasto un po' di più anche se anche in quel caso non era un grandissimo film però era aveva un po' di serietà non tantissimo neanche lì però ancora ancora riconoscevo lo stile Pixar qua ho fatto fatica a vederlo come un film Pixar detto questo iscrivetevi al canale ditene un po' cosa ne pensate di questo film creiamo una discussione nei commenti ditemi la vostra se siete d'accordo o meno insomma può essere che non siate d'accordo creiamo una discussione nei commenti ci vediamo al prossimo video